Oh, si è fatta! Finale stupendo! Hai vinto il campionato! Che guida, che stagione! Ben fatto! Ci siamo! Il titolo di campione è ormai assegnato e si chiude un altro anno all'insegno della Formula 1. L'elenco dei migliori si arricchisce di un nuovo nome che promette di entrare nella storia. Bisogna!